In dono alla casa, rosario materializzato nella casa di chi scrive dalla guida fisica Enzo attraverso Domenico Pollice, lo strumento del cenacolo Umanità e Movimento. La croce è stata lasciata in dono alla casa, la data dell'apporto è andata perduta. E' di molto antecedente alla lunga pausa di questa medianità che dopo il trapasso di Elena, la moglie di Domenico, ha ripreso la sua attività negli ultimi mesi del 1917.